Ciao! Oggi dolcetto veloce! Avevo un rotolo di pasta sfoglia da usare, la marmellata da finire, due pinoli aperti e della granella di nocciole. Ho messo tutto insieme, unito una mela ed ecco la colazione per oggi! Quindi ho pulito, quindi ho sbucciato e tagliato a fettina una mela, ho spremuto mezzo limone che mi servirà per non far scurire le mele ed insaporirle, vado ad aggiungere la dorata cannella, non so se anche a voi piace così tanto, e quindi anche un cucchiaino di zucchero, vado ad insaporire le mele bene bene e le metto un attimino da parte. Poi prendo il rotolo di pasta sfoglia che avevo lì da usare e la apro bene bene e spalmo la marmellata che avevo da finire. Avevo della marmellata di fichi, quindi con una spatola ecco vado a metterla su tutta la superficie. Quindi centralmente vado a disporre le fettine di mela che abbiamo messo da parte insaporite prima. Metto i pinoli sopra le mele e quindi ecco possiamo richiudere diciamo così a libro facendo congiungere le due metà della sfoglia ai lati della farcitura. Ecco qua, adesso chiudiamo bene i bordi così da non far uscire anche il ripieno ma anche per renderlo un po' più carino. Facciamo una cosa semplice semplice guarda. Con il polpastrello gli diamo questa schiacciatina ed ecco qua comunque verrà molto carino, molto semplice e carino con queste piegoline facili da fare. Ecco non userò l'uovo sopra ma metterò, mettiamo dai se volete farlo anche voi, dopo aver tagliuzzato a materasso la superficie, quindi ecco questo anche per non far gonfiare la sfoglia in cottura, ho messo del miele di acacia. Un cucchiaino, non ce ne vuole tanto, lo mettiamo sulla superficie così facciamo aderire bene bene anche la granella di nocciole che avevo lì già fatta. L'avevo preparata per un'altra ricetta, mi era avanzata così ho fatto fuori anche quella e ci sta benissimo. inforniamo a 200 gradi per 15 minuti, messa centralmente nel forno, è uscita ben cotta. Se vi piace meno cotta ovviamente riducete il tempo. Ecco un po' di zucchero a velo e a voi piace mangiarla calda, la pasta sfoglia con le mele o fredda? Comunque sia viene buonissima, quindi vi invito a provarla se vi ispira e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buona giornata. Ciao!